Buongiorno, bentrovati, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo di notizie che arrivano dal processo per l'omicidio del bingo ad Alessandria. C'è stato un colpo di scena in corte d'appello a Torino, è stata ridimensionata l'accusa di omicidio volontario nei confronti di un albanese condannato a questo punto solo di eccesso colposo di legittima difesa. Ma sentiamo la storia da Emma Camagna. Da omicidio volontario con condanna inabbreviato a 13 anni e 4 mesi a eccesso colposo di legittima difesa con condanna a 3 anni. Ad agosto l'imputato ne ha trascorsi in carcere due, quindi la liberazione non è molto lontana. Si tratta di Aziz Polisi, albanese di 48 anni, abitante in Alessandria, che il 1 agosto 2015 accoltellò a morte il connazionale Alia Sabri, 55 anni, fuori dalla sala bingo di via Santore Santa Rosa. La condanna a 6 minore è stata implitta dalla Corte d'Appello di Torino nel giudizio di secondo grado e qui è stata accolta la tesi del difensore Piero Monti. Sabri era all'interno della sala intento a giocare senza il benché minimo successo alle macchinette. A un tratto Polisi, a sua volta lì presente, lo apostrofò dicendo hai finito. Il connazionale rispose male, i due uscirono all'aperto, all'improvviso si materializzò una spranga uscita dall'auto di Sabri, poi un coltello emerso dal borsello di Polisi, al quale una spranga spaccò la mano causandogli una contusione a una spalla. A quel punto la lama del coltello del 48enne si insinuò fra le costole di Sabri che morì. Da qui l'arresto di Polisi è il processo per omicidio volontario, ora ridimensionato in Appello. Ancora cronaca, continuano gli atti di violenza nelle carceri di Alessandria. Gli episodi più gravi si verificano quasi quotidianamente nella casa circondariale di San Michele in particolare. Durante le perquisizioni che vengono effettuate di continuo la polizia penitenziaria rinviene oggetti di ogni tipo, da droga, telefonini. I sindacati di polizia hanno chiesto al perfetto di Alessandria una convocazione urgente del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Ma vediamo di più nel servizio di Franco Capone. Il carcere di San Michele di Alessandria è un vulcano che quotidianamente esplode atti di vandalismo e di violenza. Solo raramente si viene a sapere quello che giorno dopo giorno avviene all'interno, in un luogo dove ci sono 311 detenuti, tra i quali 146 stranieri, la cui capienza è di 260 posti letto. Non è possibile continuare a registrare episodi di violenza e di aggressione agli uomini della polizia penitenziaria in servizio, non solo nel carcere di San Michele, ma anche in quello di piazza Don Soria di Alessandria, dove i litigi e gli atti di violenza avvengono quasi ogni giorno. L'altro giorno un tentativo di aggressione di un poliziotto è stato sventato solo grazie all'intervento dei colleghi. Eppure, dice il sindacato, nessuno interviene. Per questo abbiamo chiesto una convocazione urgente del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, dove porteremo a conoscenza di tutti quello che avviene nelle carceri di Alessandria. Sono frequenti i controlli negli ambienti di lavoro carcerario e nelle celle. Fra i tanti oggetti che i poliziotti trovano nei posti più impensati del carcere e nelle celle sono i telefonini cellulari. Ed è stato proprio durante una delle ultime perquisizioni che un marocchino detenuto per detenzione e spaccio di droga ha accredito un assistente di polizia con una lametta che aveva nascosto fra le mani. Ferito e sanguinante, l'agente della polizia penitenziaria è stato poi trasportato in ospedale, medicato e sotturato. Un altro brutto episodio. Avevano trasformato un alloggio situato in una stabile di Borgo Rovereto, di proprietà dell'ATC, l'azienda territoriale Case Popolari di Alessandria, in una vera e propria centrale per lo smercio della droga. Lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Alessandria dopo aver fatto eruzione nella casa dove due marocchini, Muadawi Abdelmo Ghita di 25 anni e Amri Nadif di 26 anni, sono stati sorpresi in flagranza di reato. Nell'abitazione con i due marocchini che i marocchini avevano usato abusivamente, i carabinieri hanno rinvenuto due panetti di hashish e una somma di denaro a frutto della vendita della droga. Sotto accusa invece la ragioniera che si spacciava per commercialista, risponde di una serie di reati tra cui la truffa. Sentiamo Emma Camagni. C'è anche chi è stato condannato a causa della ragioniera Graziella Bruni, 58 anni predosa, che si presentava come commercialista e capiva la fiducia di molti titolari di negozi ai laboratori, piccole dite. Si impegnava a svolgere le operazioni contabili e fiscali, in molti casi non lo fece mettendo nei guai i clienti. In parecchi l'hanno denunciata, la procura l'ha messa sotto inchiesta e ora il PM Vona ha chiuso le indagini contestandole truffa, professione indebita, esercizio arbitrario della professione, indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato. Accusa quest'ultimo ha compiuto in concorso con Enrico Maria Rossi, 47 anni, Alessandria, a sua volta imputato. I danneggiati sono di Alessandria, Castellazzo Bormi dove vada predosa presonare. Della vicenda si cominciò a parlare nel processo per bancarotta fraudolenta alle titolari di un'agenzia turistica alessandrina fallita, accusate di non aver consegnato al curatore le scritture contabili. Il difensore dimostrò che non avevano colpe essendosi fidate della commercialista, cioè la Bruni. Evitarono la condanna per quell'accusa, non per la bancarotta semplice. Fu presentata la denuncia che avevano fatto nei confronti della ragioniera, partirono altre indagini e a finire nei guai ora è Graziella Bruni. E adesso parliamo del secondo rapporto di Save the Children che è la vigilia della festa della mamma, evidenziato come l'Italia e molti paesi d'Europa siano ancora molto indietro riguardo ai diritti delle donne che decidono di avere un figlio. Ci racconta tutto Ketty Porcello. Ci si sposa sempre più tardi, si diventa madre sempre più avanti negli anni, spesso bisogna rinunciare al lavoro a causa di un welfare che non riesce a sostenere le donne che decidono di mettere al mondo un bambino. È un quadro davvero sconsolante quello di Save the Children che ha diffuso il secondo rapporto sulla condizione materna in Italia. Una premessa che porta a riflettere alla vigilia della festa della mamma che si celebra domenica. L'equilibrista e la maternità tra ostacoli e futuro è il nome del rapporto che parte proprio da un'analisi della denatalità causata soprattutto dall'incertezza lavorativa nel nostro paese. Basti pensare che secondo l'ultima analisi Istat nel 2015 sono nati 17 mila bambini in meno rispetto all'anno precedente. Troppi dislivelli sia a livello di retribuzione tra maschi e femmine che di ore di lavoro effettive, soprattutto quelle domestiche, non contemplate in nessuna tabella ministeriale. Ma gli squilibri sociali si evidenziano anche tra un nord più virtuoso e il sud, dove invece la condizione delle madri fatica a migliorare. Nella classifica stilata che ha il quarto posto, una posizione di per sé positiva, se non fosse che, Trentino o Adige a parte, nessun'altra regione italiana è di certo una vera amica delle mamme. Il vero malessere, nonostante viviamo quasi 20 anni oltre il 2000, è sicuramente il nostro modello culturale, sociale e politico che si appoggia ancora su uno schema patriarcale secondo il quale i figli sono tutt'oggi di proprietà esclusiva della famiglia e che aspetta soprattutto alle madri prendersi cura di loro. Ne è un esempio lampante alla mancanza, ad esempio, di asili nido all'interno dei posti di lavoro per i quali proprio Save the Children sta portando avanti una vera e propria lotta. Abbiamo un debito pubblico di oltre 2.000 miliardi, siamo terzultimi in Europa e sessantesimi nel mondo per l'indice di corruzione percepita. Abbiamo inadeguatezzi infrastrutturali, pochissima efficienza in una pubblica amministrazione che costa quasi 30 miliardi l'anno e siamo un paese che penalizza la presenza lavorativa delle donne che di certo non vengono viste come forza sociale ed economica. In questo quadro generale si inserisce tristemente anche il costante aumento della popolazione anziana e il tasso di povertà che colpisce fin dai primissimi giorni di vita, con il 14% circa di bambini e ragazzi sotto i 18 anni che vive in condizioni di povertà assoluta. Adesso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino ha conferito a Valerio Binasco di Novi Ligure la consulenza per la direzione artistica nel prossimo triennio 2018-2020 dal 1 gennaio. Binasco succede quindi a Mario Martone alla guida artistica del teatro. Sono molte le testimonianze dei due protagonisti, clima di stima reciproca e collaborazione anche con i vertici dello stabile. Ringrazio innanzitutto, dice Martone, Binasco, scusate, ringrazio innanzitutto loro che hanno avuto l'idea di propormi per questo incarico a partire dai soci aderenti al teatro stabile al Consiglio di Amministrazione. Prima di oggi non sapevo che cosa volesse dire davvero sentirsi onorato. È molto forte la gioia, certo, ma il sentimento che prevale è quello di responsabilità nei confronti della città di Torino che amo profondamente e anche della regione in cui sono nato. Non sarà facile ma farò tutto il mio meglio per onorare l'eredità artistica di Mario Martone mentre mi considero fortunato di poter collaborare con Filippo Fonsatti. E adesso parliamo sempre di teatro e di musica, musica del Conservatorio di Vivaldi, in particolare di Scatola Sonora, il Festival Internazionale di Opera e Teatro Musicale di Piccole Dimensioni che è arrivato alla sua ventesima edizione. L'Overture sarà domani, sabato 13 maggio alle 17, al complesso conventuale di San Francesco, ex ospedale militare ad Alessandria. Si terranno tutti gli appuntamenti di maggio, qui mentre a Palazzo Cuttica, a sede del Conservatorio, ci saranno gli appuntamenti di giugno, tutti con ingresso libero. Fatto in collaborazione dal Conservatorio con la città di Alessandria, l'assessorato ai beni della politica culturale e inserito nelle stagioni del Vivaldi con il contributo della Regione Piemonte. Ma sentiamo l'intervista all'ideatore, coordinatore e organizzatore Luca Valentino. È una festa, una festa di compleanno, quindi chiunque può venire alle 17 in San Francesco, l'ex ospedale militare. Avremo molti ospiti, molte persone che hanno partecipato al Festival in questi anni, delle sorprese, dei video e tanta musica naturalmente. Fino al 20 maggio saremo appunto all'ex ospedale militare a San Francesco, con una serie molto nutrita di eventi in diversi orari, con musica che vanno dalla musica antica alla musica moderna. Il Festival ritorna poi in giugno, il 12 e il 13, qui a Palazzo Cuttica, dove ci troviamo ora per Elisir d'Amore, la nostra opera da cortile, ormai tradizionale da tre anni. Queste sono foto della prima edizione di Scattola Sonora, anzi del primo spettacolo in Unzurück, andato in ritorno di Indemith, che mettevamo in scena vent'anni fa per andare in tournée in Spagna, a Barcellona, dove c'era un festival di opera da tasca. Tornati dal festival ci venne l'idea di fare anche noi un festival di opera di piccole dimensioni. Quindi questa è un po' la pietra migliare del festival, un'opera molto divertente, che dura solo 12 minuti, però è un gioiellino, perché è una parodia di un'opera, la parodia del dramma borghese, è veramente molto divertente, ci siamo affezionati, l'abbiamo già ripresa in altre occasioni, però era il momento giusto per celebrare questi vent'anni con questo piccolo capolavoro. E adesso parliamo dei giochi matematici, domani ci sarà la finale a Milano, durante la premiazione che è venuta all'Istituto da Vinci, dove sono tenute le semifinali, la professoressa Graziella Genovese ha sottolineato come i giochi siano fuori fiore all'occhiello per l'Istituto da Vinci, ha voluto ringraziare la professoressa Maria Testa, delegata dell'Università Bocconi, per il lavoro svolto nell'organizzazione, nella sede alessandrina. Ha partecipato anche Jacopo Garlasco, finalista di Parigi per ben sette volte e portabandiera della provincia per i giochi matematici. Vediamo di più e quali sono i campioni in questo servizio. Sarà domani, sabato 13 maggio, la finale nazionale dei giochi matematici. Il 18 marzo ha avuto luogo, presso l'Istituto di istruzione superiore Vinci Migliara di Alessandria, la diciassettesima edizione in provincia delle semifinali dei campionati internazionali di giochi matematici, organizzati dal centro di ricerca Pristem dell'Università Bocconi, con la partecipazione di più di 700 concorrenti. A conclusione delle operazioni di correzione delle prove e della compilazione delle graduatorie a livello nazionale, si è avuto conferma dalla Bocconi degli ammessi dalla sede di Alessandria alla finale nazionale di domani, sabato 13 maggio. Erano 54 i selezionati per la finale, scelti tra coloro che hanno ottenuto i risultati migliori in semifinale, sono state assegnate le coppe offerte dall'Associazione Amici del Vinci ai seguenti concorrenti. Categoria 1, prima e seconda media, al primo posto Marianna Tolotto, al secondo Paolo Cangelosi e poi Emanuele Mattana. Categoria C2, terza media, prima e superiore, Riccardo Cestaro, Andrea Scianatico e Paolo Comoreau. Seconda e quarta superiore, categoria L1, Paolo Pisapia, Luciano Spettoli e Francesco Marchisotti. Categoria 2, quinta e superiore, biennio universitario, Flavio Lesci e Claudio Del Sole. Invece per la categoria GP, triennio universitario pubblico adulto, il primo è stato ancora una volta Jacopo Garlasco. Tutti gli altri hanno ricevuto un volume di pregio offerto dalla Camera di Commercio. Adesso parliamo con Mario Diaglio, che è professore ed economista all'Università di Torino e anche giornalista economico. Ha parlato di globalizzazione con lui a Macamagna. Com'è al momento attuale la situazione economica in Italia? La risposta al professor Mario Diaglio, docente universitario, editorialista della stampa, grande economista, è intervenuto come relatore in un pubblico incontro all'Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria. Direi che è una risposta difficilissima da dare, perché dipende su quale sfondo la proiettiamo. Se la proiettiamo sullo sfondo degli ultimi anni è buonina. Bene o male c'è una tendenza alla crescita, questa tendenza accelera pochissimo, ma ormai prosegue da circa due anni, non ci sono segni di inversione, eccetera. Da quel lato lì il malato è diventato convalescente, sta facendo qualche passo nella camera fuori dal letto e quindi va abbastanza bene. Però, detto questo, mentre noi facciamo qualche passo fuori dal letto, la Germania, la stessa Francia, la Gran Bretagna stanno allenandosi per correre. Noi abbiamo un motore importante dell'economia che non funziona, che è quello delle costruzioni. Ci sono stati i segnali che cominciava a muoversi qualcosa, le compravendite degli immobili sono aumentate, le richieste di mutui sono aumentate, tutto bene. Quando però si arriva al momento di costruire, si interrompe qualcosa in questo circuito e le costruzioni non vengono fuori. Quindi la prima cosa da fare sarebbe di riuscire a muoversi su quel terreno lì. Però non è che basti, c'è sempre l'idea, voi giornalisti avete sempre l'idea che c'è qualcuno che schiaccia il bottone, lo diceva già Nenni, no? La stanza dei bottoni, non è così. È tutto pronto a Dovalda per l'undicesima edizione del meeting polisportivo dei disabili che presenterà quest'anno alcune novità di rilievo. Fabrizio Mattani. Arriveranno da tutto il Piemonte e da altre regioni limitrofe gli atleti che animeranno il prossimo 20 maggio l'undicesima edizione del meeting polisportivo dei disabili Memorial Giorgio Giacobbe che colorerà non solo il polisportivo Gerino nel quale si svolgeranno le gare ma anche altri angoli della città. Infatti fra le novità di quest'anno il concorso fotografico una vetrina olimpionica che coinvolgerà i commercianti i cui allestimenti verranno votati tramite la pagina Facebook del meeting e poi premiati. Poi l'anteprima di giovedì 18 al Teatro Splendor con la rappresentazione dello spettacolo Due e ruote, una storia di un padre e di un figlio, il primo appassionato di ciclismo, il secondo che dopo un terribile incidente ritroverà attraverso l'attività sportiva la gioia di vivere. La serata avrà come protagonista la compagnia Teatro dell'Ortica. La sera seguente non mancherà la suggestiva fiaccolata per le vie del centro storico con protagonisti i ragazzi delle società sportive, dello zainetto e della San Domenico. La mattinata del sabato sarà come sempre dedicata alle gare preceduta dalla sfilata degli atleti accompagnati dalla banda della civica scuola di musica Antonio Rebora e dai saluti delle autorità. L'accensione del tripode al bracevo olimpico come nelle Olimpiadi vere e proprie darà il via alle competizioni che vedranno protagonisti fra gli altri anche atleti disabili, in specialità come corsa, salto in lungo, lancio del giovellotto e lancio del peso. La manifestazione organizzata dal Lions Club di Ovada vedrà protagonisti anche gli studenti delle scuole cittadine che come sempre coloreranno gli spalti del gerino. E siamo arrivati al termine, tra poco ci sarà la pagina sportiva, parleremo della Stra Alessandria che si corre questa sera, potrebbe anche partecipare alla campionessa della maratona Valeria Straneo, tra poco lo sentiremo nel servizio di Franco Capone e poi subito dopo il meteo e le notizie utili. Grazie per aver seguito questa nostra edizione del telegiornale. Arrivederci.